Ciao amici di Univet, allora come avete visto il turno l'abbiamo passato in Champions League vi avevo detto che non avrebbero segnato tanti gol, infatti ne abbiamo segnato uno solo che avrebbe segnato Iguain, magari si è tenuto il gol proprio per la Doria perché è una rete importante da non sottovalutare, loro arrivano da una serie molto positiva poi hanno battuto la Roma a Genova, hanno vinto il derby, la scuola settimana sarà nobelicarica, ancora di più li ha caricati il presidente Ferrero che gli ha dato pure il premio per battere la Juventus, pensate un po' e poi c'è Tagliaventus, vuoi no? Molarone, altri amici, Biasinone, Ruione chissà cosa stavate immaginando già, con Tagliaventus che arbitrerà Sampdoria Juve, vi dico solo che la Juve con la Samp vince e stavolta Gonzalo segna quindi due gol di Gonzalo, ciao!